Ragazzi, sono andato da Cresipizza, la pizzeria del Breatore Sei andato alla pizzeria del Breatore? Volevi provare Brivido di Fanna Cazzata? Ma no, perché? Ero curioso E com'era? Non era male Sì, senti, tagliamo corto, quanto hai speso? Ma guarda che pensavo peggio Quanto hai speso? Meno di quello che pensavo, comunque Quanto hai speso? Non lo so, l'ultima rata ce l'ho a maggio 2023 Porca paletta indebitata Ma era buona, però E falla pure cattiva Ma buona quanto? Eeeh, buona Ma buona, buona o buona e basta? Oh, buona, buona, buona e basta Ma che ne so, regà? Era una pizza Ma tipo, tipo che? Com'era fatta? E com'era fatta? Rotonda, era una pizza Ma una pizza normale? Oh sì, una pizza normale Ma come doveva essere? E che ne so, per lasciargli uno stipendio Come minimo, ma la dov'hai già digerita Porca paletta intestinale Ma quale stipendio, regà? Ma poi comunque mica paghi solo la pizza Paghi pure il locale Nel senso che v'è stata a secca l'affitto? Porca paletta coinquilina Ma no, nel senso che il locale è bello Il personale è gentile E poi sta comunque a Via Veneto Ma perché a fine cena te regalano un attico? No Te vengono più a casa che la macchina? No Te pagano la benzina per i vacci? Ma no E allora che c'è se è andato a fare? Ma un po' di rimangare sotto casa? E mannaggino Ah, regà, ma che c'entra? È comunque un'esperienza De quelle che te mandano un psicoterapia però? Ma no Guardate che l'impasto è buono Gli ingredienti sono di prima qualità E poi un'altra serie di cose Comunque ho il menù Lo volete vedere? Ma il menù tu sei fregato per vendetta? Ma quale vendetta? Sta su internet, guarda Ma questo è il menù a busta paga del cameriere Eh, spiritoso Sai vedere anche a me? Tiè, guarda Un cacchione, quanti zeri? Sì, ma il problema sui numeri prima Porca paletta decimale Vabbè, dai Non è esagerato Voglio dire, c'è stata la bufalina Per dire che è buonissima E costa 25 euro Voglio dire, non è tanto Sì, ma te la devono far grande come piazza del popolo Ma guarda che la bufala costa, eh Ho capito che costa Ma per 25 euro voglio il video del briatore Che mungere la bufala con la cannuncia, però Sì, tipo nonno di Haiti Non capite niente Poi c'è stata questa al salmone pure che è buona E quanto costa? 22 euro Meno della bufala? Se vede che il salmone vuoi pienar little Ma no, è che sulla pizza al salmone Ci puoi aggiungere il caviale Che costa 30 euro ogni 10 grammi E quindi quanto può arrivare a costare? Dipende Da che? Da quanto sei stronti? E dai Contenze può parlare però Non se a uno gli piace il caviale Ma se ti piace il caviale Perché cazzo ti va a mangiare la pizza? Tutti i torti non ce li ha Vabbè fate come vi pare Dai vai avanti E poi c'è il pezzo forte del menù Quello che ha fatto più scalpore E cioè? La pizza col patanegra Oddio il patanegra Che cacchio è il patanegra? È il prosciutto crudo spagnolo Non è un prosciutto crudo È il prosciutto crudo E che cambia? Articolo davanti No, no È uno dei prosciutti più pregiati al mondo E quanto costa sta gioconda da ristorazione? 65 euro No tutto il prosciutto Dicevamo la pizza Eh, la pizza 65 euro Ma è tipo abbonamento Puoi tornare più volte? Sentite regà È patanegra, ok? È una cosa da intenditori Scusa eh Ma se metti in prosciutto da 300 euro a chilo su una pizza Ma da che te intendi? Dei radiatori? Sì, forse Comunque alla fine l'impasto è buono È digeribilissimo Perché? Perché è senza lievito Pensa si scemetteranno pure quello Oh, fate come vi pare A me mi piace A me no Da quando questo posto è diventato famoso A me mi ha rovinato la vita Ho come l'impressione che sta per cominciare una maratona di tragedie Falla finita Perché ti ha rovinato la vita? Perché ho conosciuto una ragazza Che bello E come? In un locale a Ponte Milvio Ma dai E com'è? È un po' antico ma regge È pieno di lucchetti No com'è Ponte Milvio Com'è la ragazza? Ah, la ragazza è bellissima Ma è fissata con le cose di classe Guarda eh Smettila Vabbè, qual è il problema? Il problema è che io l'ho invitata a mangiare una pizza Guarda eh Finiscila Hai fatto bene Dov'avoli vi portà? Da Gigi ho sciancato Da Gigi ho sciancato E perché lo chiamano così? Perché si chiama Gigi E perché è sciancato immagino No Ho sciancato il cognome A questo suo regalo ma un zon manco suo piano Te lo dico io La finisci? E perché volevi andare da sto Gigi? Perché con 10 euro ti fa il menù Suppli surgelato Bruschetta fredda E pizza scelta tra margherita e margherita senza mozzarella Ammazza toccannacce E lei non ha voluto immagini No Lei mi ha detto che usciva con me solo se la portavo alla pizzeria di Priatore Guarda eh Zitto tu E ce l'hai portata? Sì Appena ci siamo seduti ho letto il menù Soltanto il coperto costava 5 euro Per fortuna avevamo il tavolo fuori Ma lo togli da davanti per favore Guarda che il coperto sono le posate i tovaglioli Me l'hanno detto Ma io gli ho spiegato al cameriere che la pizza la mangiavo con le mani Senti ma se l'abbandoniamo davanti a una chiesa Ma te stai zitto Senti scusa ma qual era il problema? Che non c'avevi i soldi? Ma no ce li avevo i soldi E quanto c'avevi? 50 euro al massimo te potevi leccare i piatti Appunto Lei invece appena ha visto il cameriere Gli ha ordinato 15 antipasti perché voleva assaggiare un po' tutto 15 antipasti? Ma sei uscito con lei o con il zio? Ma la smetti? E scusa te che hai fatto? Gli ho ordinato un grissino Un grissino? Sciapo Pure E senza glutine Praticamente ha ordinato una busta Esatto Ma comunque alla fine il conto tra pizza, antipasti, vino e dolce era di 350 euro E che hai fatto? Ho introdotto il discorso sulla parità dei sessi Guarda eh Zitto E che gli hai detto? Scusa Che essendo un uomo moderno non avevo difficoltà a farmi offrire la pizza da una ragazza al primo appuntamento Guarda eh Smettila E lei? E lei mi ha detto invece che era tradizionalista E che secondo lei la pizza la doveva offrire l'uomo Guarda eh E te che hai fatto? Io ho aspettato che andasse in bagno E poi? E poi sono scappato Ma come sei scappato? Meglio da no Median pod da piangere E poi è un bra谢谢 Tug麵 Ma come sei sta